L'annuncio di K. Meroten, ho finito la chemio ma il percorso è lungo. Convoi e mesi difficili. La principessa del Galles, che nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore, torna a parlare e lo fa a cuore aperto in un video su Instagram. Mentre l'estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Inizia così il lungo videomessaggio di K. Meroten, pubblicato sul profilo Instagram di famiglia. La principessa dei Galles, malata di tumore, torna a parlare e lo fa a cuore aperto. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e nella strada sconosciuta. Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te, spiega la futura regina consorte, con umiltà. Ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto. Nel video ci sono immagini private di famiglia, testimonianza di questo periodo duro e doloroso che hanno vissuto insieme, senza però mai perdere la speranza e soprattutto ristando uniti. Questo periodo ha soprattutto ricordato a me e William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati. Il percorso è ancora lungo. La chemioterapia è finita, ma i prossimi mesi continueranno ad essere delicati per Kate. Fare quello che posso per rimanere libero dal cancro è ora il mio obiettivo. Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo, spiega ancora, e devo continuare a prendere ogni giorno come viene. Non vedo comunque l'ora di tornare al lavoro e di intraprendere qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di ripresa con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita. Le parole per i malati di cancro. La principessa Kate si è sentita molto amata in questi mesi, non solo dalla sua famiglia, ma anche dal fiume di persone che l'hanno supportata e incoraggiata da ogni parte del mondo. William ed io siamo così grati per il sostegno che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. Infine le parole per chi sta male e chi ora può comprendere meglio di chiunque altro. A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può arrivare la luce, quindi lascia che quella luce splenda intensamente.